buonasera l'incontro di oggi sarà l'argomento la luce tutti noi siamo interessati ad avere molto luminosità nella nostra vita la luce è l'argomento del nostro incontro di oggi cosa possiamo fare per avere più luce in tutti i sensi nella nostra vita è chiaramente quando c'è il buio non si vede nulla si spegne la lampadina e non si vede nulla se accende una lampadina si vede tutto arriva il sole noi vediamo noi stessi vediamo l'ambiente siamo gioiosi e abbiamo ristoro il fatto di poter vedere bene questo il nostro incontro parleremo fare una chiacchierata molto tranquilla molto simpatica su quello che sono i vantaggi della luce noi viviamo in una parte del mondo in occidente in cui abbiamo più luminosità perché nel nord hanno l'inverno polare e quindi la luce arriva molto fioca c'è una luminosità molto molto lieve molto si vede quasi nulla non c'è proprio un buio completo ma si vede ugualmente qualche cosa e questa cosa di non avere poca luce spesso si crea a una situazione in cui le persone hanno sono tristi hanno un po di malessere interiore e quindi la luce può influenzare il nostro umore e quindi cosa cosa facciamo per avere più luce nella nostra vita intanto apprezzare che noi abbiamo il sole abbiamo la possibilità di ricevere questa luce quindi abbiamo una bella fortuna di non essere un paese nordico dove non c'è mai la luce o comunque una luce molto piccola e molto soffusa e quindi rischiamo di di non avere abbastanza ristoro dalla luminosità della nostra vita e quindi cosa facciamo beh diciamo beh nel nord hanno questo problema di poca luce però non l'aurora boreale che è meravigliosa piena di colori ed è molto creativa e molti scrittori attori artisti di tutto il mondo hanno avuto ispirazione da questa cosa molto bella e artistica che ci offre e ci dona la natura molto generosamente e quindi noi amiamo il sole amiamo la luce l'estate e la stagione è il momento più caldo in cui noi possiamo apprezzare il sole di fatti tutte le persone spesso si sentono ristorate di andare in vacanza al mare dove c'è tanto sole dove si può prendere la bronzatura ristorarci della vitamina d che viene trasmessa dai raggi solari quindi ci ristoriamo e ci ricostituiamo anche il nostro stato cellulare con la luce la luce è vitale la luce è indispensabile per la sintesi cronofiliana per le piante senza luce non abbiamo la vegetazione quindi è un punto importante proprio per la vita poi c'è l'aspetto più profondo del nostro essere della luce la luce e rappresenta anche l'illuminazione quando parliamo di illuminazione ci sono varie terminologie che parlano di luce però è diffusa sia dal dal senso più pratico di avere luce per vedere e anche luce dal punto di vista di ispirazione spirituale quando diciamo c'è della luce nella tua vita c'è della luce nella tua coscienza questa cosa luce viene rappresentata la spiritualità che noi abbiamo nel nostro cuore nel nostro più profondo essere quindi luce la luce l'illuminazione nel buddismo si intende proprio lo stato di buddha illuminazione poi chiaramente noi sappiamo subito individuare cosa la luce cosa sia perché se noi accendiamo da che non vediamo nulla e vediamo le cose il suo significato è immediato nel senso che da nulla si vede c'è l'aspetto poi più profondo di poter vedere nel senso che noi abbiamo una mente con una coscienza e questa mente dotata di coscienza può vedere sì ma vede cosa ha capito percepito se noi un oggetto non l'abbiamo mai visto e nessuno ce l'ha mai fatto vedere non possiamo vederlo perché non abbiamo la facoltà di vedere e proprio perché non c'è nella nostra mente il collegamento che fa comprendere quella cosa e ce la fa capire come oggetto come oggetto esistente e quindi cosa dipende il fatto della luminosità di poter vedere dipende da noi stessi se noi abbiamo consapevolezza e abbiamo chi ci aiuta ad andare oltre nel vedere le cose e percepire gli oggetti del nostro ambiente possiamo vedere di più in scienza spesso si si parla di un aneddoto in cui quando cristoforo colombo andò a scoprire l'america il le caravelle erano all'orizzonte del mare e gli indigeni che erano sulla riva e non vedevano nulla lo sciamano del loro gruppo vide l'increspatura del del mare all'orizzonte e poi individuo degli oggetti che stavano arrivando delle barche quindi lui ha comunicato agli altri del gruppo del suo gruppo che c'era qualcosa all'orizzonte e loro a loro volta hanno visto le caravelle questo per dirvi che se c'è qualcuno che ci indicano che una cosa esiste poi noi ci crediamo e possiamo anche vederlo qui diventa un campo molto profondo e spirituale perché il guru il maestro il buddha che ci indica guarda tu sei quello che ti sei dimenticato di essere da un po' di di vita perché così la mente ha perso la sua identità vera più profonda si è dimenticato non è che tu non lo vedi perché non ci sei è perché c'è bisogno di qualcuno che ti indichi il percorso in modo che puoi rivedere di nuovo quello che ti sei dimenticato luce quindi la luce è importante riassumendo il nostro dialogo la nostra chiacchierata sulla luce molto sintetica perché si può veramente parlare di molti argomenti riguardanti la luce a livello materiale senza luce non si vede nulla gli occhi sono fondamentali la vista la capacità di vedere però possiamo vedere anche con altre altri sensi per esempio una persona non vedente esercita altre facoltà di visione si può vedere quando una persona frequenta un non vedente specialmente sono non vedenti dalla nascita si può percepire effettivamente che sono vedono in qualche maniera hanno comunque una organizzazione mentale tale che riescono a orientarsi nell'ambiente un aneddoto di questo tipo ve lo posso proprio dire io avevo un amico che pianista che non vedente che fra l'altro abbiamo fatto diversi concerti insieme lui mi indicava alle strade guarda per andare eravamo genova dovete andare qui gira a destra gira sinistra le strade e mi indicava dove dovevo andare io per curiosità ho seguito tutto quello che mi ha indicato che effettivamente siamo arrivati a destinazione e insomma chiediamo qua ma fatto come come mai e quindi si può comunque esercitare un altro tipo di vista di visione se non siano gli occhi fisiti per vedere e poi ripetendo che la luce è fondamentale per avere un buon umore e per curare anche le forme di depressione come anche i colori sono fondamentali sono fondamentali sia per la pratica spirituale sia per creare un'armonia dentro di noi come cura di auto cura con i colori i colori hanno un potenziale curativo molto potente molto forte quindi se illuminiamo le nostre stanze il nostro ambiente in cui viviamo e lo coloriamo vivacemente possiamo curare sicuramente problemi di depressione di solitudine o problemi comunque legati alla tristezza quindi possiamo aiutarci in vari modi proprio illuminando molto la nostra casa spesso anche avere delle finestre che danno luce aiuta ad essere più felici più contenti bene e sono al termine della mia piccola chiacchierata sulla luce riassumendo la luce è molto importante nella nostra vita è fondamentale per la vita sul pianeta quindi proteggiamo proteggiamo il nostro ambiente con dove cui viviamo con finestre con luce con tutto quello che riguarda il nostro benessere e di stare molto all'aria aperta per prendere i raggi solari che ci aiutano a stare meglio in salute e a ricostituire le nostre cellule del corpo in più la luce è il nostro aspetto più importante interiore che va curata prendendoci cura del nostro benessere con la pratica spirituale vi ringrazio della vostra attenzione e vi ricordo che c'è il mio piccolo insegnamento del giovedì anche online chiaramente una sintesi di quello che viene svolto qui nel centro e intanto vi invito anche al mio corso sono io e insomma è una cosa molto bella cui sono per una settimana a vostra disposizione potete chiedermi qualsiasi cosa che io sappia sul buddismo sul centro sulla meditazione sulle pratiche dei mantra e quindi potete proprio avere una esperienza molto profonda su quelle cose che io spesso ho parlato anche online e ho insegnato da qui da 28 anni vi ringrazio della vostra attenzione è un caro abbraccio e chiaramente abbiate un'estate piena di luce e di divertimento ciao da maria rosa